E quindi questa pluridisciplinarità della donna, che ha questa mentalità capace di sposare momenti diversi del giorno, della notte, dei mesi, eccetera, fa sì che capisca la natura del nostro tempo, che è una natura liquida, che sale e scende come orde del mare, con valori che appaiono e scompaiono nello stesso momento.